Io mi concernerò dall'esistenza, consumateli dal fuoco. Posso ancora lanciarlo? Io mi concernerò dall'esistenza. Bruciati dalle fiamme! Mi schiaccio! Posso ancora lanciarlo? L'incantesimo non è ancora pronto. Lo stancco dalle fiamme. Non ho un bel salto. Questo incantesimo non è ancora pronto. Consumati dal fuoco. Posso ancora lanciarlo? Sta ancora ricaricando. L'incantesimo non è ancora pronto. Bruciati dalle fiamme! Sta ancora ricaricando. Prima devo tenere un versaglio. Portameli vivi, Roltan. Li venderò a un ottimo prezzo. livre. Spaniel. Erovi è la meta. Adesso di queste delle cose sono le forti. Quasi vogliono vivere il cuore. Cominciare in quanto riguarda bene. Quelli vieni in quanto riguarda? Quasi un piccolo prezzo è la parte studio. Quasi un piccolo prezzo.